chi è qui su? si ma chi è? ma chi è qui su? oh chi è? oh benvenuti sei tu? e ti ho invitato senti ti ho invitato toh come cazzo entro qua ma a te? come cazzo entra qua? non lo so non lo so ma chi è? eccolo qua ma te ma hai messo push to talk? no no non è push to talk dobbiamo parlare in game parliamo in game eccomi in game capito? ma come si parla il gioco? con voi? mi sentite? oh? prova! si mi senti? mi senti? parla? aspetta ciao prova mi sentite? oh! oh non mi senti? oh! si tu mi senti? oh! mi senti? ok perfetto ma mi senti pure? ma mi senti pure? eccoci mi senti? si ok allora andiamo! ma che casino! aspetta! come funziona stu gioco del merda qua? devi dirmelo tu! ma io che ne so! ma posso picchiarlo? vaffanculo! vai senti all'angolo! ma stai bloccalo all'angolo! bloccalo all'angolo! vai! 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 mi chiamano sto diventando assordo! che è qua? ma si può dormire? si si! vai vai! ma come si fa per andare avanti qua? che è qua? aspetta! scrivi un volto! cioè? ah! io mi sono modificato qua! io mi faccio rosa! io mi faccio rosa! rosa che bocchia! oh! come che si fa questo? come che si disegna quel volto? oh! non mi fa... oh! andate avanti! si ma io sono rosa! me vedete rosa? me vedete me? io ti vedo viola! viola non va bene viola! ah! che cagata è sta cosa? buono lo so! porca troia! così senza povero eh! oh! e le vede ve? porco diavolo! eh? au! 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 e dai! io sanissimo da chi è che a me sta a trasportare qua! senti! dove stai fermo! e su porco! vaffanculo! vieni qua! non puoi spingare porco! e dai! e su! e fate cambiare colore! dai! e su! Dio padre! Dio! e cambia colore! e basta spingermi! e vai! 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 cambia colore! vai! 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 che è qua? la tv offline! senti! che cazzo è? ok! come si inizia a giocare ragazzi? come si inizia a giocare? io non lo so! ma che cazzo ne so io materno! quello sta che cazzo è di mano! come si gioca qua? che è Spock dupe? ma che cazzo fai? ma che guardi di porno? guardi Dio padre! allora scendere al vecchio mondo! firmare qualcosa di spaventoso? e come si registra? ciao! avviare il gioco! che facciamo? ah via! io avvia! io andiamo! avvia! andiamo! 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 che è qua? che è questa? che è? vai! senti! saluta! vai! io che stiamo? che stiamo in diretta? ciao! prele! si vai! saluta! ti venite a seguirmi su tisci! mi chiamo proprio Vincenzo Macchiato HS! mi raccomando! vede! che è qua? ah! le torce! premette le torce! che è sta cosa? ma che è sta roba? sta fregna! ma questo è il begnare! cazzo sono i punti da vivano! ma che è? ma che è? le bombe di perno! ok! ma qui il giorno a che mi serve la torcia? ma che ne so a che serve? dove bisogna andare adesso? ma che cazzo? entra nella campana! ah! entra nella campana subacquea! qua! ma dove? qua! 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 ah! ma noi siamo tipo astronauti siamo! qua! andiamo dentro! andiamo! 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 mancano delle tute! si! chiudiamo la porta! via! siamo pronti? vai! 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 dove cazzo siamo arrivati? porca! che cazzo è? porca! che cazzo è? che cazzo è? apri! 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 io! cazzo! ma che cazzo siamo? ma che cazzo siamo? ma che bisogna fare qua? allora! firma qualcosa di spaventoso! esatto! vabbè! ci stanno a Matteo che spaventa! fermati! fermati! vabbè! io se uvoi! io se uvoi! non funziona qua con Matteo! vai! andiamo! 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 vai! corri! vai! Vai in quel palazzo, andiamo, andiamo, andiamo Ma che consiste? Ma che consiste questo gioco da merda? C'è Nisciucchi dentro! Che cazzo te vuoi? Dov'hai? Oddio, vanno con te, oddio, l'occhio è tornato Non c'è capitale, eh, non c'è capitale Che cazzo? Che cazzo è sto gioco Ciao, andiamo, andiamo Di buon selfie, ciao Sì, ciao, sono Valentina Nappi Riprendimi, 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 dice Na Ciao, sono Valentina Nappi Mi piacerebbe farmi inculare da un immigrato Possibilmente nero No! 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 Ma che non muero? Uoooooooooooooooooooooo Che cazzo ti mati? Che è? Oddio! 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 Che cazzo è un ero! Viva, via! Viva, ragazzo! Viva, via! Chi è? Chi è? Pure io! È pure io la soffersa! Non sta la torcia mia, Dio Padre! Oddio! 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 Chi è qui su? Ma chi è? Oddio! Ma che vuole da me? Ma che cazzo vuole? Aiuto! Pieghi la torcia! La torcia! La torcia! La torcia! Pieghi la torcia! Pieghi la torcia! Dammi la torcia! Dammi la torcia! Aiuto! Aiuto! Ma che cazzo bisogna fare adesso? Oh! Stai a firmare Buzzi! Oh! Gennaio! Oh! Gennaio! gennaio cazzo io non ho più la torcia come mi attacca il cazzo mi è sicurato la torcia dov'è il bastardo no dove la torcia ma l'hai spaventato l'hai firmato si ma la torcia è mia dove sta no mi sa che bisogna andare avanti bisogna andare esatto avanti ecco la torcia la batteria non è infinita e l'ossigeno non è meno chi è chi è chi è dove va io dove va occhio che occhio che occhio che la batteria non è infinita lo sige non è meno dobbiamo andare avanti ok andiamo qua venite venite andiamo 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 avanti andiamo avanti eh dobbiamo andare dobbiamo andare dobbiamo andare mi sa che qual è via 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 ma quello cazzo che veramente ho ma chi ti senti qua qua via 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 andiamo via oddio fantastico ragazzo mi hai fatto spaventare vaffanculo lo sentite? lo sentite? tu lo senti? no manco io Matteo sai che ti saluta? chi? no cazzo ma vaffanculo ma che è l'anuno questa? sai che ti saluta? Sandi Sandi sai che ti saluta? te? la bionda ciao oh 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 non sto di cazzo apri ciao ciao oh vaffanculo oh oh che cazzo fai? chi è che ha aperto? ma che cazzo io non sto aperto ma dovrei stare fuori ma no mi da la porta mi da la porta a posto ma che è in tartella ci siamo tutti? sì ci siamo molto è chiaro gettare nella macchina di esplorazione nel video qua dov'è? esplorazione video che è qua la macchinetta fotografica sì qua mettila sì è questa dove sta gennaio? ma devi mettere firmato qua dentro? sì dove sta gennaio? ah vedi devi mettere dove sta gennaio? gennaio andiamo metti la fotocamera gettare la fotocamera sì mettila dal dentro mettila vai aspetta bravo vediamo un attimo no ok prendere il disco prendere il disco il disco prendere il disco ok adesso te lo tiro ah su SpockTube andiamo andiamo su SpockTube SpockTube vieni andiamo 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 vai vai mettilo disco guarda qua guarda qua guarda qua si si interiaco il disco gennaio e ti ruolo su va scusate ok si vai saluta benvenuto a segreti su te ci vediamo un po' Vincenzo manchia da Hs guarda 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 le torce prendete le torce vai che salve stiamo andiamo ragazzi andiamo ok lo sto filmando lo filmo lo filmo lo filmo lo sto filmando ma vaffanculo vai zitto io sono salvo dove siete cazzo mi è caduta la torcia aiuto oh dov'è 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 dove siete ok sentito ok ragazzi se neanche il corso prende buona torcia non c'è buona torcia e ti attacchi a lui cazzo come mi attacca il cazzo mi è scivolata la torcia dov'è il bastardo ma non è che ci pote la capsula ma ragazzi mi sono salvo a mandare la capsula non mi ha mandato la capsula l'ho fatta io dal detista che va che è io c'ho paura oh no mi sa che mi si riempavano che si riempavano no mi sa che devo andare qua sotto ma scusa ma l'hai filmato il mostro? eh sì che l'ho filmato eh non me lo filmava oh è qui è qui è qui fermi fermi non c'è fa ha paura ha paura oh buono io ok oh 180 dollari minchia che è sto sito ma che è sto sito che ci vado pure io cazzo anche io ce li ho paga le tasse va ma che è tipo aspetta com'è che si commenta? chi è? ah non si può commentare ok ma di nuovo? ah ok andiamo andiamo io andiamo andiamo ragazzi io ho un'altra torcia io ho due chi ne vuole una? io ho me una sì una sì perché ce l'ho no io ce l'ho piena ce l'ho piena chi è che parla? io chi è? che ce ne so io? ah no aspetta dobbiamo andare a dormire dobbiamo andare a dormire vero? andiamo a dormire vai a dormire andiamo a dormire andiamo a dormire andiamo 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 si e io mi metto qua ah che bella dormita buonanotte ragazzi buonanotte buonanotte che schifo ma che schifo ma chi è che ha scorreggiato? buongiorno buongiorno il cazzo come va? buongiorno chi è? ma che schifo fai? vai vai state qua che io mi compro tutto allora dov'è qua? acquista equipaggiamento eccomi eccomi ragazzi eccomi dove è più naru? zitto ah quello è il suo tu? questo chi dorme? chi è? mmmm ma cazzo no la vediamo che si può acquistare qua quello sta a dormire che cazzo fa quello? eh oh eccoci andiamo ah se bella andiamo sì pensavo che è morto dove andiamo ad è bello? qual è la missione d'oggi? ah vedi? oh che è? oh che è? oh che è? ma che è? ma che è? ah è troppo ah questo è mio ma che è sta roba? ascolta qua qua c'è sto le canzoni di Bamba 3 ascolta vai fa sentire sì 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 andiamo andiamo dobbiamo entrare in casa dice di entrare in casa entra nella campana sì in casa in casa prima dobbiamo comprare le cose veniamo a te andiamo ah ah sì 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 andiamo andiamo sì dobbiamo firmare qualcosa di spaventoso ma dove cazzo è andato? chi è già le torci? la telecamera che c'era? io c'è una lampadina qua tu è andato ma come hai venuto aperto? c'hai tu la telecamera? dai andiamo 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 occhio attendo attendo a destra oh che cazzo è un uff lo filmo sto scappando oh prego me lo fai il caff bastardo cazzo no chi è che me l'ha presa? all'altro dov'è? io andiamo andiamo a firmare qualcosa io corri 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 andiamo andiamo E non lo so dove E ancora me, bastardo Mani in alto, mani in alto Oh ma voglio finire Perché scappa da un strato Cosa sei? Oh che caccia fa? Si è nascosto, attento Oh che caccia, che ci sta in droppa Porca botta Avvicinati, senti Aspetta, ci penso io Spiccata, vanno Oh grazie, questa è mia Ma che sta a caccia, che sta a fa? Ma che ne so io Sto a filmare, sto a filmare Oh aiuto, aiuto Chi è? La telecamera, la telecamera La telecamera Eh la vuoi tu, la vuoi Correte, correte Qua, qua, qua Dove sta? Oh che caccia Oh 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 Sono in tre Sono in tre Aiuto, aiuto, aiuto Sono in tre Sono in tre Porca puttana E sto a fare video Ci penso io Chi è? Oddio aiuto Aiuto Che cazzo è? Sta per morire Aiuto Che cazzo è qui Su porco diavolo Chi è? Ritorniamo, ritorniamo Via, 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 via Mi sono andata via Mi sono andata via Sondino Porco diavolo morto Corri Dio Non c'ho, non c'ho lo seceno Mi manca lo seceno Non riesco più a correre Fermati Fermati lì Fermati lì Non correre Fermo Fermo Dietro di te Dietro di te Fermati Fermati lì Ma che me fermo Aiuto Aiuto Sta venito Aiuto Andiamo Corri Sì sì Ciao ciao Corri Corri Chiudi Chiudi Dio Chiudi via Via, 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 via Via, via Dov'è Sondino? Non lo so Ma che cazzo è? Non dato Sondino Ah, ma te Fattura dell'ospedale di Sondino Giolla 7 dollari Ma che ho andato in ospedale? Come ho fatto ad andare in ospedale? Non mi ha chiamato me in ospedale Do sta? Aiuto Chiudi c'è? Andi non sono via Come si butta la telecamera dentro? Non sei ancora vivo Non operarci molto conti E' stato cazzo E' stato Matteo è stato E' stato mio Matteo è stato E' stato Matteo Ok Andiamo 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 a caricare un video Su Porn Stupoli Lo filmo Lo filmo Finiti Puttana Portata Travessa Sta scappando Stupoli Stupoli Visto Mi vado a dormire Cazzo Andiamo a dormire Dove? Io andiamo a dormire Corri 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 Andiamo a dormire Vado a dormire ti senti a dirvi che penso io perché l'area il loro è l'ultimo giorno questo andiamo devo acquistare come si acquista l'equipaggiamento ma si ma l'equipaggiamento dove si compra a ordinare qui ma stiamo su marte ma che cazzo è dove sta la coca cola ma non c'è gadget luci che è sto coso fermi un po dove stai vedendo i soldi oh cazzo che sto comprato ma non lo so che sto comprato che cazzo sono comprato ho raccolto la bibbia prima ma che è arrivato un pacco non c'è niente per me non c'è nemmeno più una torcia non c'è una torcia che non c'è niente che è l'attivaccella non Andiamo Oddio no Orce Ma Che cazzo fai? Ti nascondi? Andiamo 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 Niente torcia Niente torcia E io non c'ho più la torcia Non ho più la torcia Fa col cazzo qua Io mi cago sotto Vai vai prego Io non entro Vai sentino vai Ah io se vuoi io non c'ho niente Vai vai Santino vai vai Ti aspettiamo più fuori Ciao Ma l'abbiamo lasciato da sotto E ma ce l'abbiamo noi la telecamera Ah no stai in ospedale Di nuovo Cazzo Ma dove? Porca botana Orta cazzo in ospedale Ma questo è un ero eh Santino 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 qualcosa che lo mettiamo ciao bambini io sono matteo che se lui sandino giolla a lui piacciono i maschioni pelosi a me piacciono le minorenni ok ottimo si è fattibile se hanno più di 14 anni non è reato attenzione non è reato ok se non è reato va bene punto e ragazze con sezienti con età maggiore 14 anni non è reato quindi ma so se andiamo io mi disagio raccoglieremo associo accomodatevi signori facciamo il video dite qualcosa che lo mettiamo presentatevi bambini io sono matta che se lui sandino giolla avete qualcosa da dire a lui piacciono i maschioni ok 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 orca troia salvo video salvato video salvato e dopo lo metto su youtube dice dopo te lo dico io andiamo a dormire vai ma quando è cazzo bisogna dormire siamo stanchi ma che è schifo ma che fai scusate ragazzi ma è l'ansia non è l'ansia ok ah ok hanno fatto la salva nessuno nessuno se è broso e subato perché non mi piace il mondo si è dimenticato di te ma che dici ma poi è realizzato che vorrei che era un brutto sogno ah cazzo ma veramente no ma a me succede sempre sta roba nella vita vera è finito giorno 1 invita invita i tuoi amici e penso ma come è finito e dobbiamo farm a tre giorni rimasti ma che abbiamo finito già così è finito ma era finito il gioco ma che cazzo c'è finisce così c'è pure un quarto c'è volendo c'è daniel grega daniel ci stai tu facciamo dire da le pare che fa lo ripetiamo come si fa invita un attimo ormai abbiamo avviato bisogna arrivare di 4.000 visuale dei video andiamo arriviamo a 3.000 vai io andamolo io prendi le dolce andiamo dimme ma guarda la foto steam di madri santino clicca oh vatti cazzo i tuoi porca puttana ma che cazzo di foto c'ha madonna fa più paura quello che c'ha sulla foto che questo gioco andiamo vai andiamo ragazzi andiamo oppla allora ci siamo tutti? ok mi sa che dobbiamo fare 3.000 visualizzazioni ok ci vedi magari si vanno più visto vai sentiti dopo di te vai no dai adesso seri però sennò dopo non riusciamo ad avanti andiamo 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 dai andiamo ma qui io c'ho paura non è che ci sono non fare nulla santi santi che sta a fare quello? stai scorgitando qualcosa santi andiamo? santi eccomi 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 ragazzi mi sa no mi sa no allora dov'è che stanno sti mostri? sotto? allora tu vai dritto là scendi la scala farò qui sotto ne si interacciono questo è tipo un alberca abbandonato di quel cazzo lo so questa? andiamo sotto dai torniamo sotto esatto scendiamo? e qua dopo ci facciamo male vai vai attenti non ti fai male non ti fai male non ti fai male ok guarda che fin qua dritto si apre chi è qua? chi è? oh madonna oh ma che te è in ospedale psichiatra? oh eccolo eccolo vieni vieni qua 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 all'umaga all'umaga vai io io filma 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 stai a filmare? che no? dove stai? ma dove stai? ma dove vieni? vieni qua vieni qua 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 c'era uno qua c'era uno qua c'era uno eh eccolo 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 occhio 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 ma che te è una figa con i denti? porca troia io da questa piccola 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 tira l'interno tira l'interno tira l'interno tira l'interno eeeh quanto è vai oddio me sta a mangiare un braccio me sta a mangiare un braccio occhio tira l'interno tira un culo aiuto ok ma l'hai firmato o no? ok sto filmando sto filmando dietro oddio vai o ma l'hai firmato? ma lo sta a firmare o no? ma beì come sei non so andiamo 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 a casa via 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 mi ha già la fregna con i denti quella ma che scappa via via a te lasciamo santino Sì è voluto Si sente male apposta ragazzi È un gioco horror Ciao ragazzi Ci sentiamo più tardi Aspetta me Ti aspetto Oh che fa quanto corre questo Oh fermate Mi fermo mi fermo Sì fermate Che ti surcasso Corri 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 Chiudi chiudi Aspetta 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 Affanculo Andiamo 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 Ma le fogole mi hanno messo Eh spero che almeno ci arrivo 100 views Almeno 100.000 100.000 virali su tiktok Andiamo andiamo Oh ma la fregna con i denti La fregna con i denti è virale Metti qua dentro Metti Ecco qua Ma dite che fa cosa Questa fa il disco Penso di sì Che è Ho andato del disco Andiamo andiamo Oh Vai vediamo quante viso l'ha fatto Oh ne voglio almeno 10.000 Sì andiamo Oh sto abbandonato Ah resti portando E' partito e' partito e' partito Qualcuno Il diritto si apre Che è Oh Porca bottana Dove sei? Oh Ma non vi vedo Oh Senti Vai 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 All'umaga 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 Filma 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 Stai Genna dove stai? Ma voi dove state? Ma sono Ma guarda dove stai? Eccolo Vai 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 Ok vai 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 Se la prendi con me Aiuto aiutatemi picchiate tiragli la torcia, tiragli la torcia, senti, tiragli la torcia oh, che cazzo è? scappa, scappa sto filmando, sto filmando, figlio di... oh, che cazzo è? bastardo niente, siamo lasciati bene, mi sa qua, ci fa 500, così tanto visual oh, venite a dormire oh, arrivo cazzo, madonna, bello eccomi, 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 ma non abbiamo guadagnato niente, non abbiamo guadagnato ma non abbiamo guadagnato un cazzo, però per terra dormi tu sei la cosa peggiore che mi sia successa da quando sono venuto a lavorare nelle marche non serve neanche che ti rispondo, vergognati pronto pronto adesso andiamo bisogna acquistare l'equipaggio mento, l'equipaggio mento, andiamo a acquistare, vai, 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 vai è una bomba, è una bomba ma che bomba dai me l'hai usato oh oh schifo schifo ma che è stuposo avete qualcosa da dichiarare? eh che d'è questo? lo smagman allora io raga devo fare una comunicazione molto importante dimmi dimmi mi piacciono i maschi perfetto andiamo minchia e sta roba un attimo allora poi un'altra cosa mi raccomando seguitemi tutti mi chiamo macchiati vincenzo boba cazzo ah ecco ecco aspetta aspetta me l'hanno scritto in chat praticamente si dobbiamo usarlo sui mostri quella roba lì l'abbiamo sprecata la bomba cazzo perché l'hai usata? come? la bomba? non lo so è partita dovevamo usarla perché più rivisualizziamo bene i cosi mostri più più soldi facciamo allora venite andiamo andiamo a ricomprarli no no niente non si può andiamo no e che lascio lui qua lo lascia ecco poi è che ne sapevo andiamo andiamo a posto e non ti fa partire non c'è una torcia io dio padre come nei porno ragazzi dobbiamo oh fermati come sui video come sui video porno bisogna allora più rivisualizziamo da vicino è bene e meglio è ripeni 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 oh che cazzo fai ripeni ma cazzo fai nooo ahahahah 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 ok la catetta di uomo ahahahh ahahah ti si sente che scorreggi dopo il microfono te vuoi pure riscondere sono a merda andiamo a dormire vai abbiamo perso il giorno vabbè dai il giorno dopo vabbè tu si è buttato via la bomba cazzo qua questo è mio vai ma dai ma accanto a questo bello uomo sul bello maschero metto un letto accanto a lui vieni qua amore vieni ma che amore oh ma ne fate vieni qua amore vieni ma levati c'è l'azione a dormire a dormire dormire e dai non mi addormento ok scusate che i suonrecini sono spontanei scusatemi siamo fottuti che questo è l'ultimo giorno e siamo fottuti ditelo insieme a me siamo fottuti ma che fottuti ma che fottuti di che andiamo eh occhio ok ma devi comprare la bomba ma che da solo oh la bomba bisogna no non abbiamo soldi dove vai non abbiamo soldi non abbiamo soldi non abbiamo apri 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 andiamo ormai siamo fottuti no 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 che fottuti dobbiamo vincere vai ma no no vingiamo perdiamo siamo fottuti allora io penso che lo scopo del gioco è accumulare più soldi possibili e poi cercate ok comprare nuove cose per andare avanti non lo so come funziona io so dove andare seguitemi ok ma è un posto nuovo ma che è no è la parte di dietro me sa eh sopra venite venite sopra sopra andiamo sopra andiamo sopra io la c'ho tocca secondo me più mostri più mostri inquadriamo e più ci pagano no più li riprendiamo da vicino me sa più li riprendiamo da vicino me sa da vicino da vicino sul tetto ma che cazzo ma che cazzo io non so io non so camminare ragazzi sono mezzo mezzo soppo io ma che cazzo sta a morso una pagina no io sono mezzo soppo ma che è la pagina io per la pagina scalerei pure l'everest ma va a fa' un culo zitti 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 ma non è che qui c'è il tecchino che cazzo è una baracca di messina sì sì questa qua porca puttana super tossica questa qua mi ha un tumore porca puttana solo respira sta roba staria ma non è che cazzo ragazzi cazzo posso saltare ma che salti qua c'è stata la cosa esatto occhio non mi avrete mai i bastardi dove vai vado a fare i soldi ah dai scendendo andiamo ciao aiuto aiuto a te a te aiuto a te a te oddio vengo pure io ok dov'è gennaio io sto scendendo sotto ragazzi ma dove sta gennaio dove da qua mi sono bloccato da qua ah sta sotto sta arrivo a posto sono scelto venite ma dove state non è minchia che volo arrivo no no ma che finisce l'episodio 21 sto a caricare cose ci vuole tempo piano e soprattutto zitti qua dentro ci sta ma veramente scorreggio dalla bocca ma che è che cazzo è una fabbrica di cioccolata che è ma che è qua oddio ma sa che è un cinema questo che cazzo è ma che è qua un mulino ma no qua producono elettricità ma questa è una roba sott'acqua che produce sott'acqua che produce l'energia che è una base militare che cazzo è questa i bunker militari anni 40 che è ma c'è qualche mostro no qua tra poco ci troviamo Rodolfo che cazzo è qua ma altre cose ma qua ragazzi non c'è nessuno qua è pulito è sicuro non c'è la porta è quella porta in questo momento poi ragazzi sta staesta porta andava adesso finiscono in centro ragazzi dopo ci perdiamo la bomba dello ossigeno non è infinita non è infinita la bomba dell'ossigeno e come ci torni dietro dopo infatti l'ossigeno però aspetta prossimo passo dice ritornare la campana guarda un po che dice c'è scritto di ritorna su ok tra le missioni dice di tornare il tablet dice di torna su no oddio c'è un mostro riprendi riprendi qua dentro qua 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 dentro c'è un mostro qua dentro c'è orca questo spara questo spara dalla bocca questo spara dalla bocca ragazzi aiuto a me stesso oddio oddio aiuto sono morto niente aiuto ragazzi aiuto orco schifo orco schifo figa con i denti porca droga che cazzo è madre che schifo fumato di mattino ho fatto un po di blogging ma non è vero coglione dove sei che è sono morto facciamo i denti vai vai torna 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 su c'è poco occhio occhio lì davanti cazzo è quella cosa che è una lumaga abbiamo avvistato la fica cazzo mi sa che ci ha visto ho bisogna gestare un marocchio sta avvicinando cazzo siamo fottuti sto avvicinando sto avvicinando occhio occhio attento va e punta alla faccia che c'è la faccia a forma dei figli che vai che porta visual va a girare si passa adesso è a modelli rifà tutto il giro da sopra credo ah è quella che è quella che sta là sta là sta là scappa che finisce l'ostigio non scappa ce n'hai un quinto devi scappare oh c'è senti porco dio no lui non ci sente non ci sente me sa non ci sente ma questa che sente solo lui sente ah è da solo perché quando moriamo io vai che sei fattura vai dobbiamo fattura io ma torniamo giù eh sei fattura qua sei fattura con le persone ho capito quindi dobbiamo sta zitti perché più stiamo zitti il gioco funziona con l'audio funziona ah ho capito sei tu cazzo pensavo di essere rimasto solo io lo stai gennaio oh questo qui fa un botto di views si andiamo 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 sono aperte le scommesse secondo me 2.000 views secondo me secondo me vediamo vediamo 3.000 arriviamo lo metto io andiamo ma se quello bestemmi giustamente non vuole averte il video ma ci sono macchina di strada non so dobbiamo capire andiamo 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 ma che so è pieno di bomb è pieno di bomb ma che minchia check fai check oh porca bottana è qui è qui è qui che brutto che brutto mi sa che sarò l'unico sopravvissuto ragazzi cazzo il ragno se li sta ingruppà porco schifo oh me vuole piglia pure a me aiuto porco schifo aia 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 a me se vuole ingruppà me se vuole ingruppà aiuto 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 corri 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 occhio eh mille views eh mille views me se voleva ingruppà vai 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 che continua allora nella mia chat dicono che che mi ha avvistato la fica che dicono mi sa che ci ha visto si sta avvicinando oh 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 è vero più li riprendi guarda un po' più li riprendi con la telecamera è più fabiuso eh è più fabiuso è vero si sta avvicinando eh si guarda 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 mille e due è incazzato mi sa che ci vuole ingruppà ok lanciami ancora lanciami ancora cazzo solo mille e tre ok sta scappando ma solo mille e tre mille e tre ragazzi è un schifo eh però sommate a quelle di prima ma almeno stiamo a mille e nove andammo dai andammo a dormire andammo a dormire io ma abbiamo finito i giorni cazzo io mi prendo il letto rosa fanculo ma io quello a mo invito pure Daniel Greg dai se vuole venire Daniel Greg Gennaro aspetta un attimo allora il secondo giorno eh abbiamo buttato via il secondo giorno adesso invito pure Daniel Greg però lo facciamo serio va bene? eh però raga con me l'ultimo ok? va bene si si l'ultima con si niente no e dobbiamo ricominciare adesso si ricomincia you never got over it facciamo altri tre giorni altri tre giorni Sandino dai e ma te ma io dove andà porca puttana so capito ma si rotto li coglioni con sto cazzo di gta di merda veramente ragazzi in giotto di Sandino diteglielo pure voi cazzo che ha rotto li coglioni dai una volta che ci stava un bel gioco sempre a romper cazzo con sto cazzo di gta diteglielo pure voi di giocare a sto gioco dai deve andà deve andà deve andà diteglielo pure voi angeluzzo angelbit marco volete gta volete? chat di Sandino Giolla veramente volete gta? chat di Sandino Giolla veramente ma che c'hai botte? c'hai botte? nessuno scrive in chat eh no mo se li conto so 50 persone come minimo se ci guarda guarda 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 piga guarda i video con quelle che testo in cui basta detto va bravo su gusti niente guardare peperame lo guarda te banno pure nella jack mia ma no è peperago ecco peperago questo qua peperago questo su gtrp questo qua peperago ea questo cosa che c'è ovvio che cazzo vanno pure nella giata mia voce se siamo di penso io ci penso che ci si arrivo come arrivi dove sei ma speciale o banna 1 devo bannare o banna 1 ma non lo bannare poverino a no una madonna per me uno si è ammalato dei gta via allora invitiamo gli amici aspetta un attimo che invito l'amico mio ok vai ho invitato pure bravo è ok no 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 dove vai eccolo 8 uguale di 8 uguale di come stai permettete di dire che lo cazzo scusatevi ci abbiamo il palermitano un palermitano napoletano milanese marchigiano vai il team perfetto bastardo e di dove sei a torinese a me sono un fps non lo so perché aspettavate milano capitale d'italia scemo subito come cazzo ti fa a camminare la faccia manca un blanco la foto uguale di come cazzo fai a scrivere ste robe dove è ma scusatemi dove sta a eccolo eccolo mi senti ci vedi una merda non ho capito perché ok che me vedi una merda hai vero cammini una merda laghi quando la storia di un attimo ci siete aspetto dai dai che stessano in un quale venda via sennò dopo insieme alle minorenni vai va a franculo pure due guarda che c'ho la clip di prima che hai detto che ti piacevano le minorenne allora ricapitoliamo quando ero minorenne era ovvio che andavo a letto con le minorenne bugiardo ora che sono maggiorenne non vado più a letto con le minorenne ok minchia o mamma mia no adesso che si è diventato maggiorenne non scopri proprio diverso c'era perché volevi farti dare i soldi per comprare i botti ma non te li ha dati scusami la carta della porta come si chiama di petto postale me compri i giochi gli abbonamenti ma bene il socio con la pensione di tu nonna ma con la pensione di tu nonna con l'impianto postale bravo non lo so danni grec proviamo andiamo a fare una missione vediamo se lagga dai vieni prova dai vieni che come frega al massimo ti abbandoniamo lì esatto al massimo ti abbandoniamo vieni io dai voglio andare su gta quando ci sono tutti su gta dillo no c'è sta come si chiama una ragazza nuova che c'è stata su gta adesso la mica di si è al vanilla al vanilla si che organizza gli eventi senza gta non fate spettatori ditelo gli spettatori e tutti i botti a me gta ma sai cazzo me ne frega sì 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 sta venire sta venire ecco l'epoca andiamo andiamo lo teniamo andiamo andiamo a via io ma più amore ma più sassi aspera spero stato sta c'è venita nel greco et laga proprio vieni sotto vieni sotto ieri non lo so perché sta laga ma scusa ma dici che hai fatturato tanto sto mese c'è sto microfono mozzuso questo microfono allora lui dice che compro da ma le realtà che lui va dei mercati adesso come si sente bene è stupido meglio così viene andiamo 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 entriamo dentro vai andiamo hai preso la torcia daniel qua 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 aspetta te la getto io per terra sta qua sta qua sta qua per terra qua per terra qua si la presa qua 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 aspetta te la do qua do prendila andiamo vieni 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 ma voi non avete idea in quanti vi vedo vedo tipo in dieci come in dieci quanta meno foto te prego non c'è credo ok vedi meglio adesso 8 uguale di no non c'è sta proprio ma si forse vede meglio adesso laghi ancora no 8 uguale di me senti ma me sentite mi sentite ma me sentite scusate pronto mi sentite se mi senti aspetta fai così fai così se mi senti fai i segni con la luce se mi senti 8 uguale di se mi sentite fate fate così con i segni mi sentite pronto vabbè io seguo loro vabbè io vi seguo ma loro non mi sentono vabbè si sarà buggato non lo so mamma mia siete proprio ritardati comunque addio santo chiedete sempre di gtrp mamma mia quanto fate schifo porca troia malati di gta porca puttana mamma mia che schifo di gioco mannaggia a me quando lo sono riportato veramente oddio cos'è ci seguono italiani ma che è qua ma già l'ho fatto l'ho fatto faccio orca già dio santo dio ma che è lo frullatore l'uomo frullatore ci sta che cazzo è occhio gira di gira di gira ma che cazzo è è buono christian un bacio enorme sì ma faccio un dispetto a me stesso perché l'agenda è quello vuole vedere gtrp cioè faccio un dispetto a me stesso se non lo porto non è che faccio un dispetto a questi questi qua vanno a seguire altri streamer se non io lo porto io orca ma che cazzo ha fatto ha sbattuto la testa sto coglione oddio ma sta a filmare questo sta filmando ma io non vedo la telecamera accesa oddio 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 mi si è scaricato la batteria Aiuto Io seguo 8 uguali di Andiamo 8 uguali di Seguo di Cazzo non c'ho più la batteria io Dove stavano i led? Ah erano di qua Andiamo Oddio Oddio La figa di mamma da quella grande Sbocchinata Che è? Aiuto Aiuto Che devo fa? Dio santo C'ho la belle doga Cazzo è qua Aiuto 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 3 2 1 Aiuto Mi prego Mi prego Mi prego Sì Andiamo via Annaggia la marrona Vai Dio padre addolorato Dov'è la via Dov'è la via di uscita? Via via Ma chi te si è in gula? Occhio Occhio eh Ok Occhio che Stiamo giocando la siglietta Qua Che è? Ci siamo tutti Ci siamo tutti? Ne manca uno Do' sta? Oh ne manca uno raga Ne manca uno Ne manca uno Ragazzi ne manca uno Ah sta là davanti Ok No non mi sentono nemmeno Cioè io non sento loro E loro non sentono me Non so perché Non ho rispettato niente Eh sono io Little Vorrei mettere Vorrei avviare la pa Oddio Oh Che è successo? Oh Mi sentite? Che è merda Mi senti? Te sento Ti sentiamo Ma te Che cazzo è successo? Quei co***o C'è di là Eh è successo che Sì in imbecille Porca troia Sì in imbecille Sì in imbecille Di gennaio Esatto Succede che Sì in imbecille L'animità è morta Lo stai Ah tu stai Eccolo L'animità è morto Io Dov'hai? Guarda là Sì 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 Vai vai No perché sono giocante Fosto mazzo Ci fiammi Che te mazzo Te lascio Prendevo lì per te Dai Hai fatto il video Ho fatto Ho fatto il video Tranquillo Hai fatto il video Hai pagato 180 di Di video E' grattis Andiamo 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 a vedere Su Pornhub Su Pornvideo No perché è E' il microfono Eh esploso il microfono Mi sa Matteo Ok qui c'è pure Matteo HS Non parla Vai Non parla perché Il microfono Non so che si Non c'è dei commenti Aspetta Tutta una roba spazio Ah ci stanno pure i commenti Aiuto aiuto Sono due sono due I wonder Che significa I wonder if Sandino Giolla is having fun Death laser is pretty scary Dbh Big air Dove vuoi scappare Oh cazzo che d'è l'amico Oh è l'amico Cazzo Ok Ok Attenti Guardate qua Oh è pazzo Venite venite che non registro Si porta la casa base Ma te fai cacare Non è che questo ci fa l'agguato Oh porca puttana Oh cazzo Oh ok 2000 views Vai Minchia ho 2000 views in un giorno Che d'è Ma sto roba strano Sì che poi sfatteva la testa Ok è qui Ok ragazzi Sono in due Sono in due cazzo Eh sono un buon fotografo 300 dollari Ragazzi sta come cosa Dai cerchiamo di prendere Prendiamo Prendiamo la bomba però Stavolta con la bomba Però ragazzi Con la bomba Non la sprechiamo eh Vai ci sto Io Andiamo Vieni qua amore mio Matteo Vieni qua Comprate le bombe vai Allora un attimo che devo Buongiorno Chi è che urla Buongiorno Buongiorno Vai che si acquista si fa shopping Vai namo Io ho fatto 300 dollari Aspettate fermi Grazie Antonazzo 5 mesi Grazie mille bellissimo Allora questa bomba Poi prendiamo anche questo E questo Fidatevi di me Ora vi faccio vedere tutto Sì Ci dobbiamo affidare di te come prima? Sì Allora Un bello Fugger Che cazzo Ma c'è un cazzo di euro Di dollaro Io prendo questa Santi vieni qua Santi prendi il check Prendi il check Sì Allora Che cazzo è sto coso qua Questo metti tipo le risate Metti quando filmo E uno viene preso Metti le risate Cambialo con la rotellina Tipo lo cambia Aspette Eccolo Bravo Ecco così Ecco perfetto Perfetto Ma dove è Matteo? Che ne so io? Matteo Matteo Eccoci arrivo Arrivo Eccoci E come si sveglia qua? Ok Avete comprato gli attrezzi? Sì Andiamo 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 Io Vai Fermo Fermo Sì Allora Prendi questa Devi cliccare il re 2 E poi gli intrappoli Ok Ok Ci siamo Andiamo ragazzi Andiamo Ma che d'è sto coso? Cazzo ne so io Tutto in barca vai Tutto in barca Vai 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 Ma che non ti piace Senti State zitto Che è l'unico gioco Dopo GTA Che fai 300 spettatori Con Fortnite Te ne fai 50 Ma state zitto Con Fortnite Te ne fai 10 Siete pronti? Vai ci sono Dobbiamo cambiare entrata Di qua Ok Oh no Non andartene Andiamo 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 Faccio un po' d'atmosfera Io Sì Ditemi quando devo buttare Il funomogen Ok Ragazzi Ci stiamo Ok Ci stiamo Allora Oggi No ma che tu Proprio i video horror Non ne si fa Ciao ragazzi Oggi è il Oggi è il 5 Aprile 2024 Aspetta Fatto Vai rifallo Oggi Aspetta Fatto Ciao ragazzi Oggi è il 4 aprile 2024 Siamo qui In missione Sotterranea Segreta Siamo insieme a Santino Quizzi E 8 Quale di 8 Quale di Ovvero Adagna Greca Andiamo Che era Sto rumore Era io che facevo Un po' di atmosfera Mentre parlavi Ci voleva La musica sottofondo Aprile Non è Non è Maggio No aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Aprile Tu pensa Aprile Il gennaio Non è Il 5 Faggia il 5 Di qua Qualcosa Oddio Ho sentito qualcosa Vai giù Cos'è Chi è Chi è Scorreggiato Chi è Che ha Scorreggiato Oddio Cod'è Oddio Cod'è qua C'è mostro C'è mostro C'è mostro Dove 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 Oddio Dov'è Dov'è Oddio 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 catturato catturato qua stai a fermare stai a fermare stu desto di cazzo ho tirato la bomba ma che teo aiuto oddio ci sta oddio oddio ma che cazzo è una sborra ci sta ma che non ci salviamo tutti aiuto no dai e apri dai fai serio dio e apri dio padre e apri dio padre suo sandino dove è morto quando non corroni vuoi andiamo a cercare che cazzo è eccomi santino corri è qua è qua è il figo porca bottana vieni vieni andiamo questo qua fai milioni grazie ok siamo pronti andiamo a vedere quanti views facciamo vai vai mille visual secondo voi ma che mille sì ma magari mille cinque mila cinque mila cazzo è sì fidati ma te ormai sono un registro esperto siamo pronti sapete che vi dico questo disco lo tiro via grazie sì sì no no andiamo 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 ma li avuti andiamo andiamo dai vai ok presto il gioco ci stiamo ci stiamo addentrando oggi no ma che tu proprio video uno che si fa ciao ragazzi oggi è il 5 aprile fai il check fai il check Santino il check non il check creduto vai rifallo prego ciao ragazzi oggi è il 4 aprile 2024 siamo qui in missione sotterranea segreta siamo insieme a Santino, Quizzi che è sto rumore? ciao a tutti ragazzi ciao a tutti guarda un po' guarda po' guarda po' guarda po' dai 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 in qualche posto stranale io il Cio Santino Ciolla ok sento rumore ok siamo a mille mille l'abbiamo fatte lo piste qua bloccalo bloccalo eccolo 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 il 100 mille due oddio e pazzo il nostro è pazzo lei senta da tocchi andare Questa non è una cosa horror, questa è una roba comica, mille e 4, io E' pieno di mostri, aiaiaiaia Ok, l'abbiamo catturato, l'abbiamo catturato Selfie col mostro, selfie Ok, dai, vinto Scusiamo, mi sentite un video di merda Sì, abbiamo vinto ragazzi Io Oh, non mi riesco a alzare il volume Andiamo a dormire, vai Vabbè, io ragazzi, io volo dopo questo, ok? Ci vediamo Come? Ragazzi, io vado Ma dove vai? Ma dove vai Santino? Ciao Sampi, non mi sembri insomma Dormi, no Ma dove vai Santino? Ma vabbè, vabbè E' dormito, vediamo che fare Ma ha quittato Ha quittato? E non gli diamo la sua parte Ma che deve fare? GTRP? Sì Ma che schifo Ma veramente Ma abbiamo superato, no? Ma veramente, che schifo No, abbiamo superato, però ci abbiamo ancora l'ultimo giorno Dai, non ci si comporta così, Dio Cristo, però E non lo chiamiamo più Vabbè, dai Dai, che compriamo? Che roba ci sta qua? Ma che cazzo, ne so, Matteo Mi sa che ci vuole un'altra telecamera, no? Riprendiamo la bomba La bomba? Ci sta solo la bomba da comprare, però? Se no, aspetta, è vero Eh, vedi se c'è altra roba Modern Modern No, non c'è un'altra telecamera Parti Che è sto cosa? Questo ne voglio prendere uno Fermi un attimo Ok, due Tre Tanto costano cinque dollari Ci sta I gadget, Matteo Il microfono migliore Shock stick, shock stick Vabbè, non so cos'è Quattrocento Costa troppo, costa troppo Vabbè, boom mic, dai Boom mic, dai E una gogo Due gogo No, no, no Aspetta, non è dietro Eh, non si può Metti chiaro Non c'è di tutto No, aspetta Ecco, ecco, ecco Sì, sì, ecco qua Io, ecco io Vai Quanto ne prendi? Aspetta Oh, iddio santo Un microfono Prendilo Via Eh, prendi un microfono Ho preso tutto Eh, l'ho preso un microfono L'ho preso L'ho preso Ok, le zanzare Altru Tendi qua, Matteo Figlia questo Ok, pigliati il check Sì Però stavolta Andiamo Sì, sì Stavolta però Riprendiamo di più Riprendiamo Io, ci avete spazio Per prendere un'altra Ok Mi serve una torcia però Non ci stanno le torci? Eh, io non ce l'ho la torcia Eh, ci sono la telecamera Statemi dietro Ok Andiamo E che riprendiamo? Senza luce, oh? Sì, senza luce Vengo Ma così, a crudo? Minchia A crudo Matteo, ma sto gioco Mi sembra carino Sai che lo rigiocherei? Sì, sì Pure io, infatti Però quel cazzo di Sandino Non lo chiamo più Veramente Ma, ma Più giorni? Sembra a pensare Quel cazzo di GTA Ah, mi, no Mi hanno detto Che ha staccato la live Matteo Capito? Sì, sì Oh Aspetta, aspetta Fai il ciacco Fai il ciacco Mettetemi vicino Mettetemi vicino Aspetta Eccomi Dai, fai il ciacco 3, 2, 1 Via Ciacca Oggi è Siamo in gita Siamo tornati qui Nel sotterraneo Con il sottomarino E oggi Cercheremo Di catturare Un sacco di mostri Puoi aggiungere qualcosa? Hai dimenticato il nome della località Però Non l'hai detto Siamo a Montegiberto Siamo a Montegiberto Sulla chiesa del Montegiberto Sulla chiesa si porta Sul sotterraneo Oggi andiamo a cercare i mostri Andiamo Vai Un attimo solo Ma non l'ho registrato Guarda Sì che ho registrato Andiamo 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 Tu devi tipo Io Ti hai letto il tappo Dalla videogaver Certo Ma te Sai che dobbiamo fare? Sì Dobbiamo scendere nei posti Nei posti E lui fa i rumori Fa con quel robo Ok Ah ok Lui fa i rumori E poi dopo Li attira no? Non ci spaventiamo Non è qualcun coso Ok Sì Ci siamo? Sì Ok Fai i rumori Ora Non questi Quelli favorosi Ci stiamo addentrando qua Cosa c'è qui sotto? Al mio via Rumori Ok 3 Oh chi è qua sotto? Ma chi è qua sotto? Sì E' a Bungary Ok Oh C'è casino? No Proviamo che a destra A destra? Vai Vai io seguo te Seguo te Seguo te Oddio Lo catturo? Dov'è? Dov'è? Ottiva Ottiva Io Ma dov'è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Catturato 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 Lo devi riprendere qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ma dov'è? Ma dov'è? Qua 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 Devi riprende Riprendilo No No Devi vieni qua Lo devi riprendere Tanto va piano Sta qua Sta qua Lo vedi? Ah ma ci sentiamo Stai entrando Stai entrando Ok aspettate Io ho bene Io ho bene Qui dentro Il mostro Il mostro È ben catturato Non so che ci è successo E' un luco Su schifoso Che è sto rovo? Ma io non lo vedo sto mostro Sta dentro Sta dentro Eccolo Guarda qua Guarda qua Dove le guardi? Stai un po' in selfie Così faccio anche il blus Ma guarda che si sta liberando Dove? Ma io non lo vedo Sta dentro La sborra sta Stai dentro Lascia qua Andiamo Ma lasciamo qua Qua c'è No c'è un altro Più mostri sono Meglio è Mi sa eh Qua c'è qualcosa? Ciao Jean Grazie 16 mesi di resab Grazie Allora dove andiamo? Destra Sinistro Avanti Destra? Destra Destra Vai Vai Destra Basta ricondarselo Però eh Minchia Destra ok Ok no Qua c'è sta le bombe Fai rumore Fai rumore Fai rumore Fai rumore Aspetta 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 L'altro c'è qua Prendi una torcia Prendi una torcia Oh Cazzo che pulo Oh questo Questa è bello Buona Ufa mia Perfetto Non lo scaricare Mi raccomando No 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 Ok 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 Abbiamo un po' così Fai rumore Fa rumore Fa rumore Fa rumore Ma voi Ma voi vi ricordate dove stiamo andando? Ma se aspetta Fermo Fai rumori Spaventosi Dimmi con dove hai Dai che facciamo il video qua Mettiti dietro Mettiti dietro Mettiti dietro Sì sì Mettiti dietro Ma dove cazzo si nascondono Ma te Ma prima sentivano una buzza di santina E per questo che venivano Non lo so No niente io non li vedo Eh non li vedo Non li vedo Non c'è nessuno C'abbiamo pure poco siceno qua Oh ecco l'ecco 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 Tendo attendo Catturalo Catturalo Ce lo fai catturalo? Sì sì l'ho catturato Ok Aspettate Ok Occhio 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 Scappate Abbiamo fatto il video Abbiamo fatto il video Abbiamo fatto il video Andiamo via Andiamo via Andiamo via Non c'abbiamo nemmeno lo siceno Via 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 Dio santo Che cazzo è? Che cazzo è? Oddio c'è lo cortello Occhio Oh pezzo di merda Vieni qua Corpisci me No lui Lascia il mio amico Lascia il mio amico Vaffanculo mamma da La cananda è sbocchinata Vieni qua Oddio aiuto Aiuto Io scappo dai Locatturo io Gennaro vai via Gennaro sorpati No come non muo La telecamera Dove segnale Riprendetele camera Qua la telecamera Riprendiamo Via Andiamo via Dobbiamo andare via Dobbiamo tornare via Cazzo Cazzo volevamo I mostri Siamo trovati Cazzo dov'era? Zona bombe? Mi sa che era Era qua? Non mi pare Era di qua? Non lo so Non mi ricordo Cazzo Dovrebbe essere di qua Oddio Poi a sinistra O dritto No ma dico Non ci siamo andati qua No aspetta Aspetta Era di qua se non sbaglio Sì 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 Occhio Ah sì Qua che c'era la fregna Quella Quella che è morte Occhio che Occhio che Sì 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 Occhio che io non c'ho Non c'ho vita eh Via 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 Cazzo cazzo Siamo quasi morti E io non c'ho più l'ossigeno Dio santo Dio della madonna Che è? Vai via Vai via Vai via Vai via Dio santo Ma chi era? Ma che cazzo Ne sono Cosa Cazzo Tu Corri Occhio Oddio Occhio sta venire Sta venire Occhio io scappo via Io riesco a scappar via Più o meno Più o meno riesco a scappar via E lei va Della fregna De mamma da Aiuto Aiuto Oddio sei tutto glitchato Prendete la camera Scappa 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 Via 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 Non lo so Ce la fa Ce la fa Mi sa che per poco more Guarda che ce la fa Guarda che ce la fa Mamma mia come ce la fa Che buscio di culo Per quanto poco Mamma mia Per quanto poco Dentro cazzo Mamma mia Per quanto poco Oh Dove cazzo mi trovo Zitto zitto Che l'abbiamo L'abbiamo vinto Do sta Si si la gracciata Madonna veramente Vai mettere la telecamera Dentro vediamo Andiamo a filmare Vai Almeno 5.000 spettatori qua Sti cazzi Ma che è che ci fa Che cazzo è calmo Che è successo Oggi è Siamo in gira Siamo tornati qui In sottomarino Con il sottomarino E oggi Cercheremo Di catturare Un sacco di mostri Fai rumori Oh 100 plus 100 plus Già Hai dimenticato il nome Della località Però non l'ha detto Siamo a Montegiberto Fai rumori Siamo a Montegiberto Sulla chiesa Del mondo di catturato Ok Non questi Quali Poi fare un film Come vale Dai Qua c'è una scala Ci sono rumori strani Non lo so cosa c'è Non c'è Continuo Lo catturo Aspettate Ok Vivo bene Vivo bene Qui dentro Il mostro L'abbiamo catturato Non so che sia successo E' nuco So schifoso Che è sto grobo Ma io non lo vedo sto mostro Sembra la frienda Della mia Noi niente E' da Lì dentro Eccolo Eccolo Così facciano più views It's Bye bye Ok 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 Sì Ma ci sto Mi ritrovo da solo Ho perso i miei compagni Non so dove siano finiti Oh Ecco Ecco Oh Mille visual Oh Dio Porca bottana Ok Si è scantato Si è scantato Si è scantato Ok 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 no solo questo 1084 visual vabbè oh andiamo a dormire vai andiamo a dormire vediamo che succede oh no 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 veramente Daniel oh vediamo un po' come va a finire ah ok minchia 45 ma te 45k ah ho capito allora più vai avanti ho capito allora più vai avanti col gioco più o meno le visualizzazioni da fa allora allora la prossima volta dai la prossima volta allora possiamo fa comunque non è male come ci sta ci sta se piace va bene allora ci vediamo la prossima ciao ragazzi ciao ciao a te allora mi è piaciuto ciao a te